Meciugorie, la bambina Federica, malata terminale, miracolosamente guarita dalle lacrime della statua di Gesù risorto. Chi è stato a Meciugorie sa che in questo luogo non esistono soltanto statue della Madonna, ma anche statue del Cristo, e tra queste una dietro la chiesa di San Giacomo, chiamata statua di Gesù risorto, in bronzo, e che molte volte ha grondato un liquido sulla zona del ginocchio. In realtà questo evento accade sempre, tanto è che molti studiosi hanno pensato sia condensazione, ma dalle analisi sono risultate lacrime. Molti miracoli sono avvenuti per opera di queste lacrime. Ecco in breve la storia di Federica, bambina che sin dalla nascita aveva due gravi malformazioni alla testa, la ventricolomegalia e la genesia del corpo calloso. I dottori hanno consigliato alla madre di abortire, ma la forte fede di lei e del marito hanno fatto sì che la gravidanza andasse avanti. Hanno dunque deciso di farsi seguire da una suora, devota di Meciugorie, per chiedere una grazia, mettendo in pratica le parole di Gesù. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua. Durante il difficile cammino della gravidanza, la coppia è stata seguita infatti da una suora che mentre era a Meciugorie, un giorno, strofinò una sciarpa di colore bianco con l'immagine della Madonna sul ginocchio del Cristo risorto. La stessa suora consigliò alla futura mamma di tenere un rosario sul ventre e di recitarlo. La sera la donna sognò un uomo e un bambino che camminavano mano nella mano. L'uomo le disse di non preoccuparsi perché tutto sarebbe andato bene e alla bambina non sarebbe successo nulla. La madre, in attesa del parto, fu ricoverata a San Giovanni Rotondo, presso l'ospedale fondato da San Pio. Alla nascita, le due malformazioni al cervello incredibilmente non avevano creato alcun danno alla bambina. I medici erano increduli. E' successo un miracolo a Federica e per questo motivo la famiglia è andata in pellegrinaggio a Meciugorie nel 2007 per ringraziare la Madonna per la sua potente intercessione. La bambina è cresciuta senza alcun tipo di problema, sana e forte. Grazie.